Ho avuto l'occasione recentemente di pubblicare alcuni dei miei articoli sfruttando i Transformative Agreements e quindi in open access con vari editori Cambridge University Press, Springer, Wiley eccetera. Io trovo che questa occasione sia veramente rivoluzionaria in un certo senso e personalmente la consiglio per vari motivi. Innanzitutto la semplicità della procedura, sostanzialmente una volta scelto di pubblicare in open access vi è chiesto soltanto l'ateneo di appartenenza, dopodiché fatta la verifica la procedura va avanti sostanzialmente in maniera automatica. In secondo luogo lo suggerisco per la visibilità che questo consente di avere, di dare ai propri articoli. Sappiamo quanto è importante oggi raggiungere un audience più vasta anche per alcuni parametri come l'impact factor dell'articolo che possono fare la differenza e dopotutto scriviamo per essere letti e quindi raggiungere un pubblico più vasto è decisamente importante. E poi lo consiglio anche per un altro motivo di carattere più generale, la non escludibilità del pubblico. Noi economisti siamo abituati a descrivere i beni pubblici utilizzando il termine non escludibilità. Ecco noi vorremmo che nessuno fosse escluso dal fruire dell'istruzione, della cultura, dei nostri articoli in definitiva. E questo si applica non solo ovviamente agli altri colleghi a cui vogliamo rivolgerci ma anche al corpo studentesco e lasciatemi dire, secondo me anche ai paesi in via di sviluppo che spesso non hanno poi l'accesso alle riviste e quindi hanno una barriera di entrata alla conoscenza che cerchiamo invece di diffondere e di scambiarci a livello anche mondiale. Quindi tutti questi motivi sinceramente mi spingono a vedere questi transformative agreements come una vera trasformazione. In realtà il termine, ho scoperto, non è usato per questo motivo ma per noi è una trasformazione molto importante e quindi io sinceramente suggerisco a tutti i colleghi di sfruttare di questa occasione che ci viene fornita.